Un applauso! Grazie! Ciao, siamo gli script of the cage come si capirà non ci piace la guerra questa è la nostra versione di Miss Sarajevo Grazie! 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 Perciò che, come un figlio deve guardarla assente a te perciò che come fiume come fiume ma safety l'amore giungerà l'amore Non so più pregare quel lavoro, non so più respirare, e quel lavoro non so più aspettare, Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie.